Dal gioco ai giochi olimpici festeggia con noi la giornata nazionale dello sport. E lo slogan scelto dal CONI per celebrare un evento che anche quest'anno si preannuncia come un appuntamento da non perdere, capace di coinvolgere tantissimi ragazzi desiderosi di vivere lo sport in tutte le sue discipline. L'iniziativa è in programma domenica 2 giugno. Il CONI di Chieti è scelto uno dei borghi più suggestivi d'Abruzzo, Rocca San Giovanni, che si trasformerà in una vera e propria palestra a cielo aperto, come sottolinea il presidente provinciale del CONI Massimiliano Milozzi. Come location è stata scelta Rocca San Giovanni in quanto il comune dopo l'ottima riuscita dell'anno scorso con Fara San Martino ha voluto, ha fatto richiesta proprio ad anticipato tutti gli altri comuni, ci ha fatto una richiesta importante per questa giornata particolare e sono stati veramente collaborativi sia il sindaco che tutta l'amministrazione comunale e sicuramente sarà una bellissima giornata di sport. Una bella giornata di sport, si diceva una palestra a cielo aperto perché in pratica saranno presenti quasi tutte le discipline sportive delle varie federazioni. Sì, infatti un ringraziamento particolare va a tutti i presidenti delle federazioni di discipline associate e gli enti di promozione che hanno contribuito all'ottima partecipazione di questo evento. Avremo quasi tutte le discipline e la presenza di numerose società sportive le quali appunto faranno dimostrazioni, gare e sarà possibile anche a coloro che parteciperanno come ospiti diciamo della giornata e soprattutto ai ragazzi delle scuole di Rocca San Giovanni provare le varie discipline e cimentarsi con le varie attività da fare. Presidente Milozzi, questo fatto di portare in provincia lo sport credo che sia anche una precisa volontà da parte del CONI che le presiede. Sì, infatti io sono delegato provinciale per tutta la provincia di Chieti e mi sembra giusto dare spazio e dare lustro a tutte le bellissime località che abbiamo lungo il territorio provinciale quindi sicuramente ogni anno avremo una location diversa per dare spazio e voce a tutto il territorio. Ciao!